rca napoli virtuosa diventa realtà ed il messaggio etico secondo cui essere corretti a napoli conviene assume la forma dello sconto sull'assicurazione per l'automobile il comune di napoli avvia ufficialmente la fase sperimentale dell'iniziativa ed invita i cittadini ad effettuare la prenotazione sul sito rcanapoli.it dopo la quale si verrà contattati per accedere al sito della compagnia conte.it per calcolare il preventivo della nuova polizza partiremo a luglio e quindi cominciano da subito le pre registrazioni è possibile andare sul sito rcanapoli.it registrarsi in modo non vincolante e poi si avranno ulteriori informazioni cioè la password praticamente per poi poter fare il preventivo e avere gli sconti ricordiamo che vale soltanto per i residenti di napoli il comune Napoli che ha fatto la convenzione vale al momento perché è una fase sperimentale soltanto per l'automobile e vale per chi è in regola con il pagamento della Tarsu del 2010. Oltre ad alcuni requisiti da possedere è importante sottolineare che il sistema garantisce anche la lotta ai comportamenti fraudolenti o scorretti imponendo ad esempio l'installazione della scatola nera e la rinuncia alle assistenze legali superfluo nei casi previsti dal contratto. La sottoscrizione delle nuove condizioni sarà possibile a partire dal mese di luglio e gli sconti iniziali sono da calcolarsi indicativamente almeno nel 15 per cento. L'esperimento non ha precedenti e ci si attende a breve scadenza la partecipazione anche di altre compagnie assicurative. Ci sono trattative in corso, ho degli appuntamenti già lunedì prossimo, altre anche con compagnie importanti, altri incontri stanno arrivando però al momento partiamo con una compagnia che è la Contè, una compagnia britannica in ogni caso è fondamentale cominciare.